L'efferato omicidio di Anna Giuliana Boccenti, la novantenne trovata morta due giorni fa dalla badante nel proprio appartamento di Castel San Giovanni, è ancora un mistero. Su richiesta del sindaco Giovanni Capelli, il prefetto di Piacenza, Antonino Puglisi, ha convocato per domani mattina il Comitato per l'Ordine e Sicurezza. La riunione si terrà in prefettura e saranno presenti i rappresentanti delle forze dell'ordine e delle istituzioni locali. L'argomento sarà proprio l'assassinio di Anna Giuliana Boccenti. I cittadini di Castel San Giovanni e i residenti della zona hanno paura e non si sentono più al sicuro. Il sindaco di Castel San Giovanni, Giovanni Capelli, ha già maturato una proposta per trovare nel minor tempo possibile gli autori dell'assassinio di Anna. Mi piacerebbe che tutte le forze dell'ordine presenti sul territorio intensificassero i loro rapporti, creando una rete che permetta di conoscere più approfonditamente la popolazione che abita il paese, ha commentato Capelli. In questo modo potremo potenziare le possibilità di identificare gli autori di questo odioso omicidio e attuare un'importante opera di prevenzione sul territorio. Le indagini del nucleo investigativo dei Carabinieri di Piacenza procedono senza sosta, con gli interrogatori che si stanno concentrando nella cerchia dei conoscenti dell'anziana, trovata riversa sul proprio letto con un fazzoletto premuto sulla bocca. Gli investigatori stanno ricostruendo le abitudini di vita di Anna e stanno tentando di capire se qualche sconosciuto aveva avvicinato la vittima nei giorni precedenti all'omicidio. L'esito dell'autopsia ha confermato che la nuova antenna è morta per asfissia. La vittima ha riportato piccole fratture alla base del collo, un'unghia spezzata nel tentativo di difendersi e lesioni al petto e alla schiena. Probabilmente l'assassino ha utilizzato il ginocchio per tenerla ferma. Secondo gli inquirenti c'era la volontà di ucciderla, nel senso che chi l'ha colpita ha usato molta energia. Dovranno passare almeno dieci giorni prima che siano resi noti i risultati degli accertamenti attuati dal RIS di Parma sugli elementi rinvenuti sulla scena del delitto. Le analisi effettuate sulle unghie della vittima potrebbero rivelare tracce biologiche dei suoi aggressori, così come il fazzoletto e il cuscino, oltre alle impronte rilevate dai RIS nella casa della donna. Il parroco di Castel San Giovanni, Dollino Ferrari, vuole ricordare Anna Giuliana Bocenti con un momento di preghiera al quale potranno partecipare i familiari dell'anziana e la cittadinanza per esprimere il profondo cordoglio e lo sgumento dell'intera comunità di fronte a un così drammatico episodio di violenza. Abbiamo pensato ad Anna nelle orazioni serali, ha raccontato il parroco, in attesa dei funerali mi metto a disposizione dei parenti della vittima per riunire nella chiesa del paese tutti quelli che vogliono essere loro vicini in questi terribili momenti e ricordare Anna con una veglia di preghiera.